95 metri di lunghezza e 810 tonnellate di peso sono le misure del nuovo ponte di Volta Barozzo che sarà in acciaio come quello esistente. I primi due interventi ci saranno già in questi giorni, poi dal 13 novembre, la chiusura dei due argini alle auto, quindi un anno di lavori per la realizzazione. Si tratta di un ponte nuovo che sarà anche in seguito alle nuove normative per i ponti simile a quello attuale ma più grande. Ci sarà quindi un anno di lavoro però credo che poi con annessi e disagi sarà un vantaggio per tutta la città. Il ponte verrà posizionato di fianco a quello esistente dal lato delle chiuse e ci passerà il tram con due piste ai lati, una larga 3 metri per le biciclette dal lato della guizza, una di 2 metri per i pedoni dal lato delle chiuse. E' certamente insieme al capolinea l'opera più importante della linea Sir 3, quella che unirà la stazione a Volta Barozzo passando per l'ospedale. Sostanzialmente verranno chiuse le due strade arginali e quindi per le automobili bisognerà trovare, lo indicheremo sia mediaticamente che anche in strada, una nuova viabilità. Mentre per i passaggi ciclopedonali apriremo due nuovi passaggi, uno è quasi pronto, l'altro sarà pronto a breve. Nel frattempo per limitare gli inevitabili disagi verranno individuati percorsi alternativi per automobili, biciclette e pedoni che saranno segnalati sia sul portale del comune, Padovanet, che con cartelli sul posto.